Buongiorno, benvenuti alla segna stampa di oggi 25 aprile. Se fosse per me ve lo dico subito, io di vacanza 25 aprile, 1 maggio non ne farei neanche uno, mi rappresentano veramente un passato, boh, chi se ne importa, mi sembra che festeggiare il 1 maggio, il 25 aprile e oggi abbia poco senso, anzi ha molto senso per fare polemica politica, molto meno senso invece per ragionare. Oggi soltanto un giornale si racconta di una cosa che non piace a quelli che amano lo sviluppo rallentato, come si chiama la decrescita felice, lo fa il Corriere della Sera in un pezzo con cui vorrei partire, e cioè il pezzo riguarda l'anno dei ponti. Questo è l'anno in cui ci sono più ponti possibili, addirittura c'è chi ha avvicinato il punto del 25 aprile a quello del 1 maggio, mettendo insieme due feste, per me è assurde, oggi è assurda, che c'è da festeggiare il 25 aprile, è finito, non lo ricordiamo più, ci sono, non so, 100.000, quando leggo che ci sono 100.000 iscritti all'Ampi mi chiedo che ci sono 100.000 persone che hanno fatto la resistenza, ma di che state parlando? E quando leggo sul Fatto Quotidiano un paio di giorni fa che è bene che il PD non partecipi all'Ampi, come si fa a dire una stronzata di questo tipo? Tipo, vabbè, lasciamo perdere, il 1 maggio lo si festeggia nel giorno in cui salta una compagnia con 12.000 persone come l'Italia, boh, vabbè. Facciamo la retorica che è il nostro grande business e siamo ben contenti di farlo, la retorica per la quale io questa sera, non sto parlando ovviamente di una nostra scelta, ma abbiamo deciso di fare domenica a Matrix, le azioni francese, quindi oggi saltiamo un turno e torniamo domani. Comunque, se vi piacciono le feste fatele, io oggi avrei voluto lavorare. Detto questo, questo conta molto poco, quello che conta è che sui giornali di oggi che ci sono si parla molto della questione all'Italia, ovviamente, perché ieri sera sono arrivati i risultati finali del referendum, il 67% dei lavoratori dell'Italia hanno deciso di non accettare il piano che avrebbe permesso domani in Consiglio dell'Amministrazione dell'Italia di portare 2 miliardi di risorse fresche nell'azienda e farla sopravvivere per un po'. Secondo me ha molta ragione Massimo Giannini su Repubblica quando dice che quello dell'Italia è un fallimento permanente che dura da 30 anni. All'Italia sono 30 anni che fallisce, sono 30 anni che ci chiede soldi, sono 30 anni che le diamo una mano, sono 30 anni che i loro dipendenti un po' restringono le loro pretese ma ce l'hanno ancora, sono 30 anni che i loro manager fanno casino, sono 30 anni che la loro dirigenza non ha un'idea e sono 30 anni che sostanzialmente perde questa compagnia di bandiera. Questa volta forse siamo arrivati a rederazione. C'è un'altra piccola considerazione che forse fa solo Mario De Aglio oggi ma in maniera indiretta sulla stampa. Ma perché i piani debbono essere prima approvati dai sindacati e poi sottoposti a un voto democratico tra i lavoratori? La democrazia esiste all'interno di un'azienda? L'azienda viene diretta con la democrazia o attraverso il piglio di un manager? Sono cose che ci dobbiamo chiedere, tanto più che tutti gli accordi che vengono fatti dai sindacati con i capi, con i vertici, poi vengono smentiti. È il caso di Almaviva, ricordava De Aglio, ma ricordo in tanti altri casi vengono smentiti dai lavoratori. L'Italia a questo punto salta perché lo Stato non può più dare un euro a questa compagnia. Salta con le reprelogative della cosiddetta legge Marzano che fu fatta proprio per Parmalat e poi utilizzata per Alitalia. Per Alitalia fu utilizzata già nel 2008 e fu utilizzata anche con l'ingresso di Etihad all'interno sostanzialmente della Alitalia, non fu usata la Marzano. Chi spiega veramente bene la Marzano è Galimberti, se avete interesse leggetelo. Oggi sul Sole 24 Ore vi spiegherà tutti i processi di questa legge che sostanzialmente sterilizza i debiti della compagnia o qualsiasi altra società nei confronti dei fornitori. E questo le dà un po' di respiro, ma mica tanto, perché comunque deve riuscire a campare e probabilmente l'uscita attraverso i commissari dalla situazione in cui si trova oggi sarà molto difficile, su questo concordano un po' tutti, anche perché il governo, anche se volesse aiutare all'Italia, non può farlo, perché l'Europa considera questi aiuti di Stato. Va bene? E oggi essere venduta a pezzettini, purtroppo al migliore offerente che aspetta lì alla riva del fiume il fallimento dell'azienda, è una di quelle ipotesi che ci sono. Non dico benvistà ai dipendenti d'Italia, non si augura a nessuno benvistà, ci sono storie, famiglie, lavori. Io non voglio entrare in quello. Qua però non si sono resi conto della bolla in cui viviamo, come noi giornalisti forse non ci sentiamo della nostra. Purtroppo è finita, non c'è nulla da fare, concorrenza dei treni, concorrenza delle low cost, concorrenza di altre compagnie. Purtroppo oggi la questione, la leggete su tutti quanti i giornali, più o meno, moscio il fondo del sole 24 ore, vi ho detto molto buono, quello di Galimberti che ci racconta che cos'è, e direi che sui giornali ne leggete di tutti i colori, ovviamente sull'Italia e anche del suo pregresso. Ultima questione di giornata, ovviamente quella di Macron, sotto due aspetti. Il primo aspetto è che i mercati ieri hanno brindato alla vittoria di Macron e lì il pezzo migliore, un'altra volta è sul sole 24 ore, dimoria lungo, lo cito spesso, perché vi spiega le cose con facilità. Ieri uno si chiedeva perché Unicredito ha guadagnato 10%, Sossitei Generali 10%, le banche hanno guadagnato così tanti soldi. non tanto Lucia perché Macron difende le banche, anche per quello, ma in quello che è successo ieri è che si sono chiuse delle scommesse che erano state fatte dai finanzieri, dalla finanza, dai fondi, dagli edge, di assicurazione contro la Francia. Perché il rischio, secondo loro, giusto o sbagliato che sia, loro non hanno idee politiche, hanno soltanto idee finanziarie, il rischio che vincesse la Le Pen per loro era fortissimo, quindi avevano fatto delle assicurazioni contro la vittoria della Le Pen, la vittoria della Le Pen non c'è stata, e loro penso che non ci sia, chiudono queste assicurazioni ricomprando i titoli che avevano venduto allo scoperto, la faccio semplice, e quindi ieri c'è un rimbalzo, spiega a lungo, da un punto di vista speculativo, non vi aspettate nei prossimi giorni rimbalzi altrettanto forti, quello che è successo ieri è quindi inevitabile per la chiusura di posizioni, come si suol dire, speculative che erano state fatte perché si pensava che andasse molto meglio la Le Pen. Questo per quanto riguarda i titoli azionari, anche per quanto riguarda i titoli di Stato, c'è stata una riduzione dei cosiddetti spread perché si pensa che l'euro oggi sia più solido. Va bene? Sì, i mercati lo considerano un rischio perché la Le Pen è una rottura rispetto all'establishment, Macron è il puro e semplice establishment dei mercati, ha lavorato in Rothschild, quindi vi rendete ben conto come mercati che non è che dicono quello che è bene e sbagliato, ma quello che per loro è bene e brutto, non consideravano l'ipotesi di Le Pen a loro favorevole. Oggi ci sono due cose delle ipocrisie straordinarie che noi abbiamo su Macron. Ieri vi ho detto questa puzzetta di antipatia che c'è in tutti quanti i giornali che tutti odiano la Le Pen, che la rende simpatica per quelli che come noi cercano di avere un'idea sempre controcorrente, non è detto che lo sia, anzi non ha l'aria simpatica, diciamoci la verità, la Le Pen. Però quando la vedi attaccata da tutti quanti ti poni qualche domanda. Oggi ti poni qualche altra domanda da un altro punto di vista. Cioè è incredibile i soffietti che fanno i giornali a Macron. Cioè Macron è diventato il salvatore della patria, oggi mi devo pure sorbire un pezzo dell'aspasi che dice quel bacio che sfida i pregiudizi e l'età tra Macron e la sua 63enne moglie. Va benissimo, ma fate, baciatevi. Ma è incredibile che tutto viene reso stupendo. La favola, l'uomo che salva l'Europa, l'uomo che salva le donne, l'amore senza età, porca puttana. Cioè è una roba che ti fa venire veramente il disgusto, anche se Macron fosse l'uomo più bello del mondo. Ferrara che dice la ciambella che riesce col buco, l'aspesi che mi parla del bacio ogni età, se il bacio a Lucarelli che dice questo sì che è un amore, non quello che c'è tra Trump e la sua fidanzata. È una roba che ti viene il diabete a leggere oggi questa roba di Macron. E l'altra cosa che mi fa venire il sangue al cervello, e mi ispira Marta Dassù oggi, che peraltro è anche un'analista probabilmente di politica estera comunista, come era lei, anche se oggi non va di moda dire essere comunisti, nonostante si fosse stati iscritti al partito comunista, la comunista mi spiega che il banchiere di Rothschild è un nuovo leader si affaccia sull'Europa. E questo veramente mi cadono le braghe. Ma sarà pure bravo Macron, ma un nuovo leader si affaccia sull'Europa. Quante volte l'ho letto sulla stampa, sul Repubblica, sul Corriere, su Liberation, su Le Monde, sul Paese, sui giornali internazionali, quando uno scemo vinceva, uno scemo intelligente, scusatemi, vincevano le elezioni in Francia, in Spagna, in Grecia, cioè basta che fosse progressista, no? Zapatero, un nuovo leader, fallito. Sanchez, quello col codino, si chiamava Sanchez, quello col codino di Podemos, un nuovo leader, fallito. Tsipras, un nuovo leader, bah, insomma, sta lì che vivacchia. Hollande, ci avete fatto due palle così? Il nuovo socialismo di Hollande, dopo cinque anni, il suo partito non prende neanche il 5%, non prende neanche il 5%, ma voi ve li ricordate i pezzi dicendo Hollande, il futuro, e tutti i politici italiani, secondo me anche Renzi, non so se Renzi o chi per lui, Hollande è il futuro del socialismo europeo, queste le direzioni dove dobbiamo andare. Nausea, diabete, oggi prendiamo un caffè senza zucchero, leggiamo i giornali, basta e avanza, ma non dovete prendere il caffè, non dovete prendere il milkshake, non dovete prendere la Coca Cola senza zucchero, non dovete prendere... Oggi lo zucchero non usatelo, leggete i giornali sui baci della 64enne professoressa che stava con il ragazzino, e che sono quelli, sì, baci d'amore, mon amour, vive l'amour, qualcuno... Insomma, stupendo, oggi se avete bisogno e volete risparmiare sul zucchero, avete i giornali, io risparmio sul disgusto. Vi do un saluto, vi dico che noi ci vediamo domani, oggi in redazione, per la puntata di domani, oggi l'ultima cosa che vi segnalo, Saviano contro Di Maio e il Movimento 5 Stelle, per la questione delle ONG, un pezzo di una pagina intera in cui lui sostiene i motivi per le quali le ONG sono cosa buona e giusta. Neanche la Spartane oggi. Ciao. Grazie. Grazie.